Fase importante per preparare il dossier definitivo perché da domani si entra nel merito oltretutto come voi sapete il CIO presenta una serie di domande specifiche che vanno dalle infrastrutture ai servizi alla sicurezza per cui bisognerà iniziare a entrare nel merito per dare delle risposte e per predisporre il dossier definitivo. Siamo assolutamente convinti che si riuscirà ad arrivare tranquillissimamente a dare una risposta anche perché abbiamo già iniziato a guardare il tutto e poi bisognerà anche avere un inizio di interlocuzione perché ci hanno fatto presente alcune criticità, alcune situazioni che preferirebbero risolte in un modo piuttosto che in un altro. Diciamo che si entra nel merito per predisporre la definitiva candidatura.